A dieci anni dal sisma la scuola abruzzese racconta gli sforzi fatti per la propria rinascita e i risultati di un modello didattico attuato in contesti di emergenza. Sarà il ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Marco Bussetti a prendere parte ad un convegno in programma per domani 5 aprile all'Aquila nella sala ipogea del consiglio regionale organizzato dall'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo nell'ambito del progetto finanziato dal MIUR dal titolo per una didattica della resilienza, formare i docenti per operare in contesti di emergenza. La scuola ebbe infatti un ruolo chiave nell'immediato post-sisma assumendo una funzione aggregante per il tessuto sociale mobilitò le proprie risorse professionali in tutta la regione in modo da favorire una pronta riorganizzazione del servizio scolastico e da permettere alle allulle e alle allunni di terminare l'anno scolastico e tornare sui banchi regolarmente nell'anno scolastico successivo. Il convegno sarà dedicato al ricordo della scuola aquilana ma sarà anche un'occasione per avviare una riflessione sul tema della resilienza e della possibilità di formare i docenti ad operare in contesti di emergenza. Interverranno fra le altre il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il presidente della regione Marsilio, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Antonella Tozza e tanti testimoni e protagonisti di quei giorni drammatici. Il convegno sarà preceduto alle nove località Acquasanta della presentazione della Pietra del Ricordo progettata dal liceo artistico Muzzi, il ricordo degli studenti, dei docenti e del personale scolastico vittime del terremoto. La giornata non sarà solo una commemorazione ma un percorso per la memoria collettiva rivolto alle future generazioni ed un impulso per la rinascita della città che vede ancora protagoniste le istituzioni educative, un'occasione per raccontare gli sforzi fatti dalla scuola anche attraverso la presenza dei protagonisti del 2009.